la scena probabilmente sta ripartendo secondo gli ultimi dati macroeconomici rilasciati ma sarà davvero così buongiorno a tutti qui è vincenzo penna di investire.biz questa è caffè mercati la consueta rubrica della mattina dove trattiamo dei mercati finanziari dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista macroeconomico non perderei altro tempo perché c'è tanta roba da dire per quanto riguarda la la cina infatti mi sposto subito sul calendario economico perché stamattina o meglio le quattro stadi di stanotte per quanto riguarda l'ora italiana sono stati rilasciati dati relativi a pil produzione industriale vendita al dettaglio e tasso di disoccupazione che cosa ci dicono i dati sono stati dei dati abbastanza interessanti al di sopra di quelle che sono state le aspettative anche se non per tutti i punti e quindi il mercato sta già diciamo valutando un'ipotesi di effettivo rimbalzo cinese perché questo è il primo dato dopo credo oltre due anni all'incirca dove si vede una spinta effettiva dalla parte della scena spinta che però ovviamente è secondo le aspettative e non secondo i dati del mese scorso infatti se andiamo a vedere il pil annuale per il terzo trimestre quindi per il q3 abbiamo avuto un più 4,9 per cento rispetto alle 4 e 4 delle aspettative quindi ben al di sopra delle aspettative ma al di sotto del 6 e 3 rispetto al trimestre scorso rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso il pil trimestrale anche è nettamente al rialzo e qui anche rispetto al mese scorso che cosa altro la produzione industriale è stata al di sopra delle aspettative ha già mai stata confermata rispetto a quella del mese scorso quindi per questo caso molto bene così anche le vendite al dettaglio sono state al di sopra di sia delle aspettative che del mese scorso tasso di disoccupazione addirittura in diminuzione su questo punto una piccolissima parentesi la cina sta continuando a nascondere i dati divisi per fasce di età quindi non sappiamo effettivamente se la fascia più giovane è sempre al di sopra del 20 per cento oppure no però per quanto riguarda il complesso ottimo ottimo per la cina quindi come possiamo sfruttare questa cosa a nostro favore prima di farvi vedere il grafico e analizzare il copper che sapete che sono altamente correlate voglio farvi due annunci il primo ovviamente che se vi interessano questi video di mettere like iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella e mi raccomando commentate qui sotto perché ci teniamo profondamente alla vostra opinione quindi fateci sapere magari se vi siete posizionati sulla cina se state facendo magari un pack sul sullo shenzhen che dopo andremo a vedere quindi un po di informazioni ci fanno più che piacere e detto questo invece volevo rapidamente ricordarvi che il gruppo di kimura trading su telegram è ovviamente totalmente gratuito qui vado a condividere le diciamo le notizie i market movers sia della settimana che della giornata se sono comunque dei market movers importanti e soprattutto vengono rilasciate tutti i giorni i link quando viene rilasciato un nuovo video di caffè mercati o se ci sono altri approfondimenti quindi mi raccomando se non siete ancora iscritti al gruppo telegram di kimura trading entrateci perché rimarrete aggiornati al 100 per cento quindi magari vi lascio il link dovrebbe stare da qualche parte pare di qua dovrebbe uscire il link per iscrivervi e nulla partiamo con con l'analisi vi dicevo cina che probabilmente sta ripartendo ma azionario cinese che invece fa molta molta fatica vi sto facendo vedere adesso lo shenzhen 100 non è altro che una sorta di nasdaq 100 se possiamo definirlo così quindi le top 100 aziende cinesi quindi all'indice principale cinese c'è anche la 50 è leggermente più diciamo meno diluito perché come se fosse una sorta di dow jones 30 quindi analizziamo questo perché comprende la maggior parte delle aziende e vediamo che attualmente siamo a livelli covid quindi siamo a livelli di marzo 2020 per quanto riguarda la cina quindi azionario cinese in profondo rosso però io un'idea diciamo di primo approccio con un piano di accumulo ce lo farei perché il mercato ci insegna che dopo queste questi forti ribassi prima o poi si rivedrà la luce quindi per quanto riguarda un piano di accumulo quindi nel lunghissimo periodo queste potrebbero essere delle zone molto interessanti per andare ad acquistare mentre per chi vuole speculare per il medio medio e medio termine c'è il copper quindi c'è il rame ne abbiamo parlato più volte se la cena riparte significa che dovrà attingere a più consumo di rame perché si basa praticamente quasi per la totalità nell'industria diciamo nel campo industriale e nel campo industriale si utilizza come materiale principale il rame quindi che cosa andiamo a fare ho fatto un'analisi dal punto di vista mensile chi ha visto le live sa di cosa parlo e anzi se non le avete viste vi invito a regolarle trovate tutto all'interno di questo canale e che cosa andiamo a fare il livello sui 350 fino ai 325 è molto interessante come zona di riacquisto da valutare proprio nel meglio lungo termine mi andrete a spostare leggermente sul giornaliero perché per chi volesse avere un ulteriore conferma rialzista potrebbe aspettare la rottura del livello 367 e 50 che poi l'ultimo livello dalla quale è partita l'ultima l'ultimo impulso ribassista quindi aspetterei una rottura di questo livello per poi andarmi a posizionare o a breakout se siete operatori breakout oppure a un piccolo retest di qualche zona che si che si diciamo verrà a formare tra la zona di 370 e 365 quindi più o meno anzi ve la vado a segnare più o meno un'entrata la farei all'interno di questa zona qui target e gli stop loss sono facili da prendere stop loss per chi opera in maniera diciamo sul giornaliero dopo la conferma stop loss a 349 e 70 e primo target 3 e 82 secondo zona 400 ovviamente non andate a prendere i livelli toni perché su quei livelli ci sarà molta molta volatilità quindi andate a prendere sempre un tic in meno in questo caso magari 3,99 e 3,79 tutto qua l'analisi sul copper è questa fatemi sapere che cosa ne pensate e se l'andrete a fare e io diciamo vi lascio come sempre una buona giornata e un buon trading a tutti ciao 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 ciao